Io sono Maria Alessandra Varone, mi sono laureata l'anno scorso in filosofia della scienza a novembre per l'eserchezza in tutta università e io sinceramente consiglio caldamente sempre a tutti in quanto ho personalmente avuto modo di interfacciarmi sempre con docenti dall'alto spessore non semplicemente a livello di competenze ma anche umano in quanto hanno sempre cercato un dialogo con gli studenti, di chiedere dubbi, di venire incontro andando così a creare quella che è l'atmosfera ideale, quindi di dialogo, dubbio, che è tipica della filosofia e che sarebbe in effetti l'ideale per entrare proprio nel suo spirito a pieno. Salve a tutti e a tutti, io mi chiamo Aurora Leggiani e sono una dottoranda in filosofia qui presso l'Università di Roma 3. Devo dire che non posso che parlare positivamente del mio percorso qui e conosco molto bene questa università dal momento che ho svolto tutto il mio percorso all'interno di essa sia la laurea triennale appunto l'ho perseguita qui, sia quella magistrale e ho potuto proseguire qui anche con il percorso di dottorato. Questo per dire che questa università ha la possibilità di svolgere a pieno il percorso di seguiti che si predige. Peraltro il mio percorso all'interno di questa università mostra l'interdisciplinarietà che questa rappresenta perché il triennale ho studiato per esempio la storia della filosofia moderna studiando Hegel in particolar modo e invece durante il percorso magistrale ho potuto approfondire altri ambiti della filosofia in particolar modo la filosofia della mente, delle scienze cognitive che devo dire all'interno di questa università sono molto studiate. Questo è molto particolare a mio avviso in quanto a Roma io credo che questo sono dei centri milioni per occuparsi di queste discipline, di questo nuovo modo se vogliamo di fare filosofia, di studiare la filosofia. Credo sia un ottimo centro di studi di questo fiolente campo di ricerca. Per cui non soltanto questa università offre un'ottima possibilità di svolgere studi sulla storia della filosofia che sia antica, moderna o contemporanea, offre anche la possibilità di studiare la scienza e di occuparsi della scienza sia per i corsi di filosofia della scienza appunto sia per quelli che riguardano la mente e io credo personalmente siano estremamente interessanti in quanto a tutto si occupa poi, si tratta, scusatemi, proprio del mio campo di ricerca. Inoltre questa facoltà permette anche di andare all'estero offrendo la possibilità a tutti e a tutti, non c'è tanto naturalmente, su preve dell'Erasmus ma anche poi di fare dei percorsi di visiting, dei progetti di visiting durante il dottorato all'estero. In mio caso appunto sono stata molto invitata e molto favorita nella possibilità per esempio di andare in Germania per un periodo e sfruttare questo periodo per approfondire negli ambiti della mia presa di dottorato. Per cui mi sento di incoraggiare fortemente tutti voi a venire e a studiare.